Bella ragazzi al vostro Zedcastle, bentornati alle video recensioni del Trono del Re. Se vi piace il mio lavoro, se vi piace le attività di Lega Nerd, vi ricordo sempre che se volete supportarci basta un bel like, un'iscrizione al canale, una condivisione sui vostri profili. Allora, manca pochissimo all'arrivo della serie tv dedicata a Loki su Disney+, quindi mi sembrava giusto darvi qualche consiglio di lettura per prepararsi al meglio all'11 giugno. E quindi, ecco, un paio di consigli di lettura per conoscere meglio il dio norreno degli inganni nella casa delle idee. Boom! Allora ragazzi, manca veramente poco all'arrivo della serie tv dedicata a Loki su Disney+, 11 giugno, e giustamente cominciamo a fare anche una selezione di alcune letture che potrebbero essere molto interessanti in preparazione della stessa. C'è perché leggere tutto, o tanto, su uno dei villain più importanti e iconografici della casa delle idee oggi non è propriamente fattibile. È nato nel 1962 dai saliti Stan Lee e Jack Kirby, il personaggio è universalmente riconosciuto come uno dei più sfaccettati e curiosi di tutto l'universo Marvel e di avventure ne ha vissute veramente tante. La serie tv, che vedrà Tom Hiddleston interpretare ancora appunto il dio degli inganni, ha già mostrato molte cose, tra cui la presenza di alcune versioni alternative di Loki. Il Loki anziano e malvagio, ovvero il re Loki, di cui parleremo anche a breve, il Loki di sesso femminile, la TVA, la Time Variance Authority, alcuni spunti che sembrano proprio arrivare dai fumetti, visto che il mood ormai di questa serie tv Marvel sembra dichiaratamente essere collegato alle grandi storie a fumetti del brand. Quindi cosa leggere in vista dell'11 giugno? Partiamo dal 2014 con questo volume, ovvero Loki, agente di Asgard. La reinterpretazione fumettistica di un rinnovato Loki, più simile alla sua controparte dell'MCU, quella di Hiddleston, ringiovanito, affascinante, malizioso. Nella serie scritta dal bravo Al Ewing all'interno delle vicende di Original Sin, assisteremo ad un processo di cambiamento dello stesso, che ci viene presentato già all'inizio in maniera inedita, come una sorta di agente segreto, diciamo più o meno alla 007 del Triunvirato, comandato appunto da Freya, Gea e Idun al comando del regno di Asgardia. Quasi una sorta di agente preventivo per risolvere minacce prima ancora che queste si verifichino. È un ruolo che sembra essere effettivamente molto molto simile a quello che assumerà il nostro dio Norreno nei confronti della TVA nella serie TV. La serie di Al Ewing, che parte in realtà in modo abbastanza ordinario, cresce in realtà numero dopo numero, soprattutto dopo che il nostro Loki si libererà appunto dal gioco di Freya e Soce, e che sono in combutta con una versione appunto malvagia e potente di Loki stesso, una versione più antica, Re Loki, vicina a quello che abbiamo conosciuto nei suoi esordi e che ha reso necessaria poi la fondazione degli Avengers. Questo lo porterà addirittura a subire ad un certo punto un'inversione morale, una vera e propria inversione morale, diventando addirittura buono, diciamola così, per poter sconfiggere la sua versione antica di se stesso e addirittura mutare il suo status quo da dio degli inganni malvagio a dio delle storie. in un excursus che renderà Al Ewing sempre più importante ai centrali Marvel e oggi lo sappiamo essere uno degli autori più affermati e che porterà anche diverse conseguenze. Ci troviamo di fronte ad un'interpretazione di Loki che è assolutamente interessante, sfaccettata, gender fluid addirittura per alcuni spunti narrativi. È assolutamente divertente. Lee Garbet ha i disegni molto pop, assolutamente, diciamo molto trasversale, ok? Non ha particolari caratteristiche, peculiarità, originalità, però oggettivamente poi ci pensano i vari Simone Bianchi, poi coadiuvato anche da Kudransky e Marco Checchetto, ad aggiungere poi spessore alle tavole. L'occhio agente segreto per conto di Asgardia e la sua successiva presa di coscienza, seppur artificiosa, e cambiamento si sono rivelati poi in una bella botta di freschezza in Marvel. È anche un episodio a ricordare al punto che, diciamo, si può intuire come mai, insomma, questa storia abbia assunto ruolo di fonti di ispirazione poi per la creazione della serie TV. Tutto il prologo di Original Sin e la serie Loki agente di Asgard è stata racchiusa nel volume omonimo di Panini, che costa 45 euro e che di fatto rappresenta la più recente e importante interpretazione del personaggio assieme ad un'altra cosa che vi chiedo di segnarvi, quella bellissima e divertentissima parentesi, di Donny Cates, disegnata da Gabriele Hernandez-Walta, in cui Loki ha addirittura ottenuto il mantello di stregone supremo della Terra, fregando, al caro vecchio Doctor Strange, il Sancta Santorum, l'assistente Zelma e parecchio altro. E anche la miniserie conseguente all'evento War of the Reons di Daniel Kibben-Smith, con i disegni di Basadua, uscito circa un anno fa, anche quella molto divertente. Mentre un altro volume che è appena stato ristampato ed è interessante da leggere oggi in vista della serie TV è proprio Vota Loki, del 2016, scritta da Christopher Hastings e disegnata da Langdon Foss, in cui, proprio nel 2016, la nostra buona vecchia canaglia si ritroverà inaspettatamente addirittura a concorrere per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti d'America. Yes, proprio quelle in cui ha vinto l'arancione Donald Trump. Poco più di un divertissement, in realtà, ma assolutamente azzeccata nel fotografare quella che è, diciamo, il fenomeno delle fake news, l'impatto dei social sull'opinione pubblica e quanto siano determinanti questi aspetti per, metaforicamente ma neanche tanto, portare un mascalzone, una canaglia e un inguaribile bugiardo ad occupare uno degli edifici più potenti di tutto quanto il mondo. L'abbiamo visto nel trailer, la saga di Vota Loki sarà presente nella serie TV e alcuni frame sembrano veramente essere presi paro paro da ciò che abbiamo visto nel mondo dei fumetti. Guardate poi quanto il sorriso qui sembra quello proprio di Tom Middleston. Loki è uno dei personaggi più versatili e sfaccettati dell'universo Marvel. È un villain affascinante che può anche diventare tante cose trascendendo generi, anche caratterizzazioni sessuali, ruoli, funzioni narrative, come nei film dell'MCU, è un character con il quale è bello giocare tantissimo. E questi fumetti di cui vi ho parlato sono buoni, buonissimi esempi di cosa si può fare con questo personaggio. Ho un sacco di aspettative in realtà per questa serie che con buona probabilità sarà piena zeppa di easter eggs fumettistici, ma soprattutto con Loki c'è la possibilità di divertirsi e di divertire. Cioè è bello, si può creare divertendosi e divertire il pubblico. D'altronde, tra una menzogna e l'altra c'è un oceano di possibilità, no? Perché, ragazzi, alla fine di tutto, ma una bugia? Che cos'è se non un altro modo di raccontare una verità o semplicemente un'altra storia da raccontare? E quindi, Loki, agente di Asgard scritto da Al Ewing nel volume, diciamo, che racchiude tutto quanto e vota Loki, molto molto interessante per prepararsi alla serie TV dedicata al Dio non reno degli inganni, delle storie, non si sa. Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like, supportate le nostre attività sul canale di YouTube e ci vediamo la prossima volta. Yeah!